Il saluto di benvenuto sia all'Amba dei Carabinieri ma alla Marina, quello che rappresentano i nostri madriai una volta, alla Guardia di Finanza che è qui e agli altri sindaci che sono qui in destituzione. Comandate, Capitano, noi stiamo dalla vostra parte e la presenza di sindaci, la presenza delle istituzioni che stipendiamo questa verità, è una verità, il fatto che stiamo dalla vostra parte. Dicevo che è un momento di festa, ma come in tutti i momenti di festa, la nostra mente non può che riportarci al passato. Stamattina, io dieci anni fa, esatto, ho partecipato alla Virgo Fidelis, il sindaco era imperato, era assente per motivi istituzionali all'estero e io feci l'indirizzo di saluto da questa cattedrale dieci anni fa. E in quell'occasione ricordai il massacro di Nassirina che era accaduto cinque anni prima nel 2003. Oggi cadono quindici anni al massacro ed è stato uno dei massacri più tardi in la storia ovviamente del passato recente. E ricordo che in quell'occasione ovviamente il fatto era ancora molto vicino a noi, ci fu tanta ovviamente sofferenza, risparmi, lacrime in questo cattedrale. Io ritengo che la memoria deve essere da lungo. È vero capitano, i giovani, i ragazzi devono imparare le regole. Se imparano le regole, se rispettano le regole, voi avrete sempre di più la possibilità di garantire la nostra sicurezza, la nostra civiltà e la nostra democrazia. E di questo dobbiamo essere legati alla forza principale del Paese, il Signore dei Carabinieri, quella che è vista anche dai bambini, forse perché Pinocchio e Pinottio c'erano, la famosa scena di Carabinieri e Pinottio.